È stata un'iniziativa da parte del Comune di Pesaro che ci ha coinvolto in questo progetto. Chiaramente è proprio il nostro settore la refrigerazione, quindi abbiamo unito le nostre conoscenze, le nostre capacità a quello che è un aiuto per il sociale, quindi per realizzare comunque nuove punti di aggregazione anche se il periodo, vista la situazione Covid, occorre tenere abbastanza limitate. È incuriosito tutti, chiaramente noi eravamo conoscenze e siamo stati fra i primi ad andarlo a vedere. Devo dire che è una cosa molto particolare, vedere arte legata al ghiaccio è sempre piacevole.